E sì, perché evidentemente poi ognuno cavalca la propria comunicazione come meglio può. Una delle cose che bisogna sempre ricordare è che ogni politico ha il suo bacino di utenze, quindi di voti, preferenziale. Salvini non vuole prendere i voti del PD o delle Sardine, Salvini vuole prendere i suoi voti e su quello cercherà di lavorare. E un'operazione di questo tipo evidentemente gli porta i supporters più vicini e quelli che stanno un pochino più lontano, che cercano un punto di riferimento. Se la lotta viene acuita dal punto di vista politico, Salvini lo potrà usare anche come arma di ricatto. Questo è evidente, quindi lui potrà dire loro mi hanno fermato perché io discutevo con l'Europa, loro mi hanno fermato perché io discutevo su questi piani. E quindi su questa strada anche nelle regionali prossime ci sarà la possibilità che lui faccia una campagna di questo genere.